che cosa succede alla fine della nostra vita beh alla fine della nostra vita si muore la morte consiste nella separazione di corpo e anima e poiché l'anima il principio della vita e dell'unità in un essere vivente il corpo comincia a decomporsi non appena una persona muore vale a dire non appena l'anima lascia il corpo ora l'anima umana come abbiamo detto all'inizio è immortale e qualcosa di spirituale quindi non può cadere a pezzi o rompersi dopo la morte l'anima umana giunge davanti a dio lì riceveremo la ricompensa per il bene per il male che abbiamo fatto questo processo chiamato giudizio particolare nel giorno del giudizio particolare siamo assegnati al nostro destino d'eternità questa assegnazione è definitiva perché per l'anima separata dal corpo nessun cambiamento è più possibile l'anima giunge davanti a dio non appena lascia questo mondo i teologi hanno descritto questa immutabilità dell'anima dopo la morte con questo esempio quando un albero cade come giace a terra e così è con l'anima questo è il motivo per cui è importante se l'anima che lascia questo mondo sia o non sia in pace e amore con dio a parte il giudizio particolare subito dopo la morte ci sarà anche il giudizio universale il giudizio universale avverrà alla fine del mondo quando questo mondo e l'universo passeranno quando ci sarà il giudizio universale anche il nostro corpo parteciperà del destino eterno dell'anima i nostri corpi risorgeranno immaginare come saranno i corpi è ben più difficile san paolo paragona il nostro corpo sulla terra ad un seme e il nostro futuro corpo glorificato alla pianta che cresce da quel seme essi sono in qualche modo uguali e differenti allo stesso tempo il nostro corpo si trasformerà ma sarà ancora il nostro corpo ma perché il corpo dovrebbe addirittura risuscitare dai morti dopo tutto è così terreno beh il fatto che i nostri corpi parteciperanno del destino dell'anima calza pennello infatti noi siamo dopo tutto non solo anime ma esseri con un'anima e un corpo il corpo è parte di ciò che ci rende un essere umano per capire quanto il corpo sia veramente parte di noi utilizzeremo questo esempio se io tiro uno schiaffo a qualcuno non posso dire wow hai visto il mio corpo ha appena colpito il tuo corpo no una persona tira uno schiaffo ed una persona si prende uno schiaffo poiché il corpo è una parte della persona umana ed è per questo che è giusto per il corpo che ha partecipato del bene del male che abbiamo fatto in questa vita di avere posto nel destino eterno dell'uomo